Musica Ben trovati in questa edizione di Licata News. C'è attesa per conoscere l'esito del primo incidente d'esecuzione presentato da uno degli ex proprietari di immobili abusivi. Ce ne parla in questo servizio Giuseppe Cellura. E' fissata per oggi la trattazione del primo incidente d'esecuzione presentato al Tribunale di Agrigento dai legali di uno dei ex proprietari di immobili abusivi a rischio demolizione. A ruota seguiranno gli altri con tutti i responsi che dovrebbero arrivare al massimo entro metà della prossima settimana. Una volta conosciuto l'esito di questi ricorsi e in caso di rigetto potrà riprendere l'opera demolitrice nei confronti delle costruzioni del primo lotto rimaste ancora in piedi. Finora dall'inizio degli abbattimenti sono nove gli edifici demoliti dalle ruspe dell'impresa patriarca o dagli ex proprietari autonomamente. Per sei, come detto, si attende l'esito dell'incidente d'esecuzione, mentre l'ultimo è posizionato in contrada gallo d'oro distante dal raggio d'azione in cui si sono mossi finora uomini e mezzi. Le ruspe non sono rimaste ferme nella giornata di ieri quando è continuato lo sgombero del materiale da risulta generato dall'abbattimento di una villetta sul mare alle balatazze. Come preannunciato, si è svolta ieri la manifestazione organizzata dagli ex proprietari di costruzioni abusive. Il Comitato per la tutela della casa è sceso in piazza per ribadire il proprio no alle demolizioni degli immobili. Un centinaio di persone ha formato il corteo partito da via Campobello, a pochi metri dall'ingresso dell'istituto alberghiero. I manifestanti hanno poi percorso il consueto tragitto lungo via Recapriata e Corso Roma, prima di giungere in piazza Progresso, a ridosso del municipio, dove hanno continuato la loro protesta chiamando in causa il primo cittadino Angelo Cambiano, il quale è rimasto sempre all'interno del municipio dove si stavano svolgendo alcuni incontri istituzionali. La manifestazione del tutto pacifica è stata seguita passo passo da un imponente servizio d'ordine con la polizia che ha presidiato l'ingresso a Palazzo di Città. «Siamo per la legalità», ha spiegato il portavoce del Comitato Gianluca Mantia, «ma vogliamo che la giustizia sia uguale per tutti e non accettiamo che la nostra città venga dipinta come un covo di malaffare. Gli abusivi sono gente onesta, a cui la politica ha dato la possibilità di edificare. Quella stessa politica, conclude Mantia, a cui oggi chiediamo un intervento per risolvere questa situazione. Vogliamo le risorse economiche per le infrastrutture necessarie a rilanciare la città». Uno striscione, lo stesso esposto durante l'occupazione dell'aula consigliare delle scorse settimane, è stato esposto dai manifestanti che sono rimasti in piazza Progresso fino a mezzogiorno, limite temporale, entro il quale era stata concessa l'autorizzazione a manifestare. Dal municipio le bocche sono rimaste sempre cucite, malgrado i ripatuti inviti da parte del Comitato ad un confronto con Sindaco e Giunta. Il procuratore capo di Agrigento Renato Di Natale è intervenuto in relazione alle demolizioni degli immobili abusivi auspicando una sinergia con lo Procura Generale. Il servizio è di TV Agrigento. Demolizioni degli immobili abusivi. Il procuratore della Repubblica di Agrigento, Renato Di Natale, lancia una proposta. Un'unità di scopo tra le procure siciliane per un'azione sinergica sulle demolizioni che coinvolga l'intera Sicilia, evitando il propagarsi di una tendenza all'incertezza e il probabile caso di impunità. La questione abusivismo nell'intera provincia agrigentina ha ormai scoperchiato il vaso di Pandora. Il magistrato sostiene che sia necessario ormai a questo punto, dall'evoluzione giudiziaria, che la Procura Generale di Palermo, coordinatrice dei diversi uffici giudiziari, possa concretizzare una conferenza dei servizi tra le procure, in modo tale che tutte possano porre in essere il medesimo atteggiamento riguardo le demolizioni degli immobili abusivi, superando così l'esponenziale fattore legato all'immobilismo. Un frangente che, se non oltrepassato, renderebbe vano tutto il processo di vera e propria restaurazione e ristrutturazione legale che si è tentato di trasmettere a colpi di ruspa. Il procuratore di Natale ha evidenziato come, stringendo l'obiettivo sulle più piccole realtà locali, si faccia un percorso parallelo ma a velocità differenti. Ad oggi, afferma il procuratore della Repubblica di Agrigento, hanno firmato una convenzione per le demolizioni quattro comuni. A Palma di Montechiaro si è svolto qualche intervento. Agrigento e Licata hanno avuto calamità dei mass media anche i nazionali ed è noto il loro status, mentre Favara procedura in itinere. La volontà politica c'è, conclude di Natale, manca l'investimento delle risorse economiche necessarie alle demolizioni. Pertanto, sino ad ora abbiamo compiuto un'attività repressiva che ha principalmente un'azione preventiva per tutti coloro che, in un eventuale futuro, dovessero pensare di realizzare costruzioni abusive. Il tentato omicidio all'amico e presidente del Parco dei Nebro di Giuseppe Antoci mi scuote e addolora tantissimo. Antoci, miracolosamente salvo dopo essere sfuggito ad un agguato esempio vivente, di come in nome dello Stato e della legalità non ci si spiega i condizionamenti della mafia, della malavita organizzata. A dirlo è il deputato nazionale capogruppo del PD in Commissione Difesa alla Camera, Antonino Moscat. Il protocollo che Antoci ha messo in Sicilia e applicato anche in Calabria ha messo sotto scacco mafiosi dei Nebro di Endrangheta. Adesso, afferma Moscat, istituzioni, politica e Stato, tutti devono da subito apportare nuove e più imponenti garanzie di protezione. Nelle funzioni del mio ruolo, continua Moscat, cercherò di collaborare il più possibile affinché questo avvenga. Il deputato Vincenzo Fontana esprime solidarietà al presidente del Parco de Nebro di Antoci per il grave agguato che ha subito la scorsa notte, quando la sua auto è stata raggiunta da diversi colpi di fucile. È un episodio allarmante sul quale spero le forze dell'ordine riescano a far subito chiarezza, continua Fontana. Adesso dobbiamo respingerlo con forza al mittente affinché dei delinquenti non possano minimamente ledere la serenità personale e professionale del dottor Antoci che si è sempre contraddistinto nel suo lavoro faticoso e trasparente in qualità di presidente del Parco dei Nebro di. I carabinieri della compagnia di Licata hanno arrestato due cittadini rumeni sorpresi a rubare gasolio dal serbatoio di un locomotore alla stazione ferroviaria di Licata. Il servizio. Due cittadini rumeni residenti a Licata sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione perché sorpresi la scorsa notte presso la stazione di Licata a rubare gasolio dal serbatoio di un locomotore. Ecco le letaniche di gasolio sottratto dal locomotore sequestrate dai militari dell'arma. Nella trascorsa nottata i carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato Rauta Alindragos e Costantin Catalin Cicoari, entrambi domiciliati a Licata, disoccupati già noti alle forze dell'ordine. I due, che si trovano adesso rinchiusi presso la Camera di Sicurezza della caserma, dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso, violenza e resistenza pubblico ufficiale. In particolare i militari dell'arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso la locale stazione ferroviaria. Ed è qui che i due cittadini rumeni sono stati sorpresi intenti a sottrarre tutto il gasolio dal serbatoio di un locomotore di proprietà di una ditta incaricata a svolgere lavori di manutenzione della tratta ferroviaria Licata-Gela. Nella circostanza, uno dei due rumeni, dopo un primo tentativo di darsi alla fuga, ha aggredito uno dei carabinieri, con il quale ha innescato una breve colluttazione, venendo però immediatamente bloccato e ammanettato unitamente al proprio complice. In seguito alla colluttazione, uno dei militari è stato costretto a ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso del locale ospedale San Giacomo d'Alto Passo. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati rinchiusi all'interno delle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Licata, in attesa dell'udienza di convalida. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. MV, questa è l'iniziale, i 53 anni di Favara, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri sulla statale 115. L'uomo si trovava a bordo della sua motocicletta, quando al bivio di Palma di Montechiaro si è scontrato con una BMW guidata da un 29enne palmese. Il favarese è stato trasportato al nosocomio Nissan. Il concorso, le sue condizioni, sono grazie. Sono arrivati ieri sera da Lampedusa i presunti responsabili dell'incendio al centro di prima accoglienza dell'isola. La squadra mobile della città dei Templi, diretta da Giovanni Minardi, a seguito di una serrata attività investigativa, avviata dopo l'incendio doloso, ha proceduto al fermo dei giovani, ritenuti a vario titolo responsabili in concorso dei reati di incendio, strage, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, coordinati sull'isola dal vice dirigente di piazza, fin dal momento dell'ingendio, i fermati hanno iniziato ad inveire contro gli altri migranti, subsahariani, ospiti del centro, anche sotto la minaccia di bottiglie di vetro in frantumi ed armi improprie. Solo dopo avrebbero dato alle fiamme in due differenti punti del padiglione, dei materassi, consapevoli della presenza di alcuni migranti e del grave pericolo cui incorrevano. Un arresto per droga a Palma di Montechiaro. La droga era nascosta in uno sportello del contatore idrico. Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i poliziotti del commissariato di polizia di Palma di Montechiaro agli ordini del dirigente Angelo Cavaleri hanno tratto in arresto Franco Lomanto, 43 anni. L'uomo è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, il tutto ben occultato, all'interno di uno sportello del contatore idrico posto sul perimetro esterno della sua abitazione. L'arresto è frutto di una capillare intensa attività che viene svolta quotidianamente dagli agenti del commissariato palmese ed è proprio nel corso dell'attività di pattuglia svolta dalle auto civette transitando per una via periferica di Palma di Montechiaro che gli agenti hanno notato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine e dal fare sospetto, aprire e chiudere velocemente uno sportellino posto sul perimetro esterno di uno stabile dove insiste la sua abitazione. L'atteggiamento ha insospettito i poliziotti che hanno intimato all'uomo di fermarsi ma invece di bloccarsi accedeva all'interno dello stabile chiudendo il portone dietro di sé. È scattato così un vasto controllo di polizia nel corso del quale sono state perquisite più abitazioni, fra queste quella di Lomanto e soprattutto la zona dove era stato visto armaggiare ed è qui che sono stati rinvenuti all'interno dello sportello destinato a contenere un contatore idrico, un involucro contenente la sostanza stupefacente e il bilancino di precisione. Non c'è voluto molto agli agenti per capire cosa si nascondeva dietro il ritrovamento della droga. Il Palmese dopo le formalità di rito è stato tratto in arresto e condotto presso la Camera di Sicurezza del Commissariato in attesa dell'udienza di convalida che deciderà la sua sorte. E prima di chiudere riceviamo e comunichiamo quanto segue il Presidente Dottor Pierpaolo Frassina, legale rappresentante al fine di tutelare l'immagine della Parnasso, degli operatori che vi lavorano, degli ospiti ricoverati e dei familiari, si dice pronto ad intraprendere azioni giudiziarie con denunce nei confronti di tutti coloro che ancora si ostinano a diffamare la Parnasso, avendo raccolto già nomi, prove, testimonianze contro coloro che continuano a parlare male della struttura e del servizio che svolgono gli operatori. Siamo consapevoli che fare impresa suscita invidia, soprattutto perché la Parnasso gestisce 36 posti letto, essendo stata accreditata e avendo la convenzione con l'ASP di Agrigento. Il ricovero infatti è gratuito e i primi 60 giorni di ricovero sono a carico del sistema sanitario. Gestiamo inoltre una casa di riposo che attualmente è strapiena. In merito alle voci diffamanti ed insistenti, circa una paventata chiusura della Parnasso, si continua a leggere nel comunicato, vogliamo tranquillizzare tutti che non chiuderemo mai. La Parnasso è una realtà che esiste e continuerà a lavorare con grande orgoglio e dignità. Quindi diciamo a tutti coloro che vogliono la chiusura della Parnasso di rassegnarsi alla nostra presenza all'Icata. Il Presidente, il Direttore, gli operatori, gli ospiti e i familiari della Parnasso colgono l'occasione per esprimere la loro solidarietà al Sindaco Angelo Cambiano per il vile atto intimidatorio subito e ne ammirano il coraggio nel continuare a governare la città. Siamo convinti che per qualunque cosa si voglia fare all'Icata ci vuole coraggio e determinazione e noi della Parnasso ne abbiamo tanto, visto che operiamo in un territorio, lasciatecelo dire, ostile. Queste le parole del Presidente Dottor Pierpaolo Frassina. Adesso ci fermiamo, la linea va alla regia, c'è la pubblicità. Tra poco con le altre notizie e gli altri servizi. Grazie a tutti. Direttamente da Il Segreto Centro Commerciale Il Porto, aperti tutte le domeniche Questo programma è offerto da Ceramiche Ligata, lo stile italiano che ha re La Fiorentina due corretti, il riposo scontato World Tour Malaterra Gigi D'Alessio in concerto il 7 agosto a Ligata Domani il ricato a sceli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata Non sono previste piogge Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22 gradi, la minima di 15 gradi I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-nord-ovest Al pomeriggio moderati e proverranno da ovest-nord-ovest Mare molto mosso Umidito oscillante tra i 50 e i 78% Questo programma vi è stato presentato da Dai Fratell'Antona, grande la qualità, di piccolo c'è soltanto il prezzo Seconda parte del telegiornale Un vertice per affrontare la questione dei minori stranieri non accompagnati Si è svolto ieri in prefettura Lo ha seguito per noi TV Agrigento Parliamo della problematica dei minori stranieri non accompagnati Lo Stato prevede per la retta 40 euro Invece la regione Sicilia ha previsto 80 euro Quindi c'è questo disavanzo di circa 40 euro Oggi le cooperative sono qui in prefettura Per sollevare questa problematica Guardi, le nostre cooperative che assistono i minori stranieri non accompagnati Sono arrivati proprio al limite Non sono più nelle condizioni di sostenere l'assistenza per i minori stranieri non accompagnati Perché ci troviamo un paradosso I trasferimenti ai comuni sono arrivati da parte della prefettura per 45 euro I comuni chiedono di contro una nota di credito per abolire la rimanente parte Quindi da questa storia non ne usciamo Quindi la soluzione è I comuni devono immediatamente pagare questo acconto che viene dato da parte della prefettura E per la rimanente parte attivare un'azione di rivalza nei confronti della regione Per farsi riconoscere la differenza Da un certo punto di vista la problematica possiamo dire è stata superata nel 2016 Perché questa cifra prevista per i minori è stata abbassata Però devono essere pagate le somme relative agli altri anni Allora relativamente diciamo che è stata superata Perché noi per quanto riguarda il 2016 Rispetto a quanto stabilito dalla regione siciliana Noi abbiamo impugnato il provvedimento Perché sosteniamo che con la retta di 45 Rispetto ai parametri che dobbiamo rispettare Non siamo nelle condizioni di garantire un servizio adeguato nei confronti dei minori Per quanto riguarda gli anni pregressi Diciamo da diversi mesi, per non dire anni, alla regione siciliana Di attivarsi per ritrovare le risorse Per riconoscere il pregresso alle nostre cooperative Lei gestisce una delle cooperative per minori Qual è il disagio che oggi manifestate? Io gestisco la comunità alloggio juvenile di Campobello di Licata I disagi sono tantissimi In particolar modo che ci siamo indebitate Noi ancora aspettiamo le risorse dal 2009 ad oggi Non possiamo più andare avanti così Siamo costretti, se non ne troviamo una soluzione A lasciare purtroppo i minori Perché arrivando le risorse dal 2009 ad oggi Le banche giustamente devono rientrare Io non so più cosa fare Qual è la posizione dei comuni? I comuni in tutto questo giro Probabilmente sono quelli che vengono a soffrire maggiormente Nel senso che soffrono dal punto di vista economico Ma soffrono anche dal punto di vista di immagine Dal punto di vista anche sociale Nel senso che i comuni riescono a derogare solo le quote Che vengono assegnate dal Ministero degli Interni E cioè 45 euro al ragazzo ospitato al giorno Questa è la quota che ormai sia il Ministero sia la Regione Hanno stabilito che debba essere pagata Sia per il 2016 ma anche per il 2015 Per cui per esempio il Comune di Agrigento È nella condizione di avere già erogato Tre trimestri del 2015 E stiamo pagando l'ultimo trimestre del 2015 E poi man mano che arriveranno i soldi dal Ministero Pagheremo anche quest'altra somma Naturalmente il Comune si trova a essere il titolare di una partita di giro Nel senso che i soldi vengono erogati dal Ministero Vengono erogati al Comune E il Comune così come arrivano Destina alle associazioni, alle cooperative Che si occupano dell'assistenza di queste ragazze Il problema delle cooperative è che invece chiedono per gli anni passati La differenza tra i soldi previsti dallo Stato Circa 40 euro e quelli previsti dalla Regione Altri 40 euro per un totale di circa 80 euro a minore Sì, le cooperative ovviamente hanno per parte loro La necessità di avere questi soldi Ma sono soldi che i Comuni non hanno di propria competenza Li hanno se la Regione li eroga La Regione siciliana non ha alcuna intenzione di ridurre i contributi per il diritto allo studio L'emendamento presentato è meramente tecnico Nell'emore della definizione dell'imminente accordo con lo Stato Che sbloccherà 550 milioni di euro Lo dice in una nota il Presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta Nei prossimi giorni continua il Presidente E incontreremo il Governo nazionale Per discutere dell'accordo complessivo sulle entrate Che consentirà di sbloccare la spesa dei capitoli bloccati nella finanziaria In ogni caso l'Aggiunta regionale ha dato mandato al ragioniere generale Di verificare la possibilità di prelievi da alti capitoli per il finanziamento dei parchi E sabato prossimo 21 maggio alle 17.30 Nei locali dello Stoai di Agrigento Si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso di poesia in lingua siciliana Dedicato a Giuseppe Serroi Poeta storico, studioso, delle tradizioni popolari Medico, scienziato, politico, patriota L'iniziativa giunta alla sua seconda edizione È promossa dalla CNA pensionati di Agrigento Retta dal Presidente Francesco Curaba E dalla segretaria Lia Spallino Entrambi il primo nelle vesti di Presidente La seconda di componente Fanno parte della giuria Gli altri membri sono Enzo Argento, Tonina Rampello ed Enzo Alessi Questo il verdetto emesso Primo premio a Liliana Arrigo Secondo premio ex equo a Giuseppina Iacono Baldanza e a Silvia Cusumano Terzo premio ex equo a Rosalia Lobue e a Denza Pecorelli Lo sport, il basket, la selezione under 13 della Cestistica Licata Vince anche a Palermo e stacca il pass per la finale regionale Che la opporrà al Messina Il servizio è di Giuseppe Cellura Straordinaria impresa per la selezione under 13 della Cestistica Licata Che replica anche a Palermo il successo interno ottenuto lunedì E stacca il pass per la finale regionale I ragazzi di Coace Adriano Ancona Che partivano dal più 11 di vantaggio ottenuto nel match d'andata Sbancano il campo del basket giovani Palermo col punteggio di 64-74 In finale se la vedranno con Messina Anche il match della Marconi di lunedì pomeriggio era stato parecchio tirato Con entrambe le squadre a ribattere punto su punto In una gara giocata su ritmi forsennati E a cui ha assistito una buonissima cornice di pubblico Per essere una partita di basket giovanile Cestistica Licata che alla lunga ha legittimato il successo e il passaggio del turno Per i ragazzi giallo-blu si aprono pertanto le porte della finale Traguardo prestigiosissimo per una realtà periferica come quella licatese Che malgrado il gap con società dotate di risorse economiche più importanti E con bacini d'utenza maggiori È comunque riuscita a centrare una finale regionale probabilmente impensabile All'inizio della stagione E prima di chiudere riceviamo e comunichiamo quanto segue il presidente dottor Pierpaolo Frassina Legale rappresentante al fine di tutelare l'immagine della Parnaso Degli operatori che vi lavorano, degli ospiti ricoverati e dei familiari Si dice pronto ad intraprendere azioni giudiziarie con denunce Nei confronti di tutti coloro che ancora si ostinano a diffamare la Parnaso Avendo raccolto già nomi, prove, testimonianze contro coloro Che continuano a parlare male della struttura e del servizio che svolgono gli operatori Siamo consapevoli che fare impresa suscita invidia Soprattutto perché la Parnaso gestisce 36 posti letto Essendo stata accreditata e avendo la convenzione con l'ASP di Agrigento Il ricovero infatti è gratuito I primi 60 giorni di ricovero sono a carico del sistema sanitario Gestiamo inoltre una casa di riposo che attualmente è strapiena In merito alle voci diffamanti ed insistenti Circa una paventata chiusura della Parnaso Si continua a leggere nel comunicato Vogliamo tranquillizzare tutti che non chiuderemo mai La Parnaso è una realtà che esiste Continuerà a lavorare con grande orgoglio e dignità Quindi diciamo a tutti coloro che vogliono la chiusura della Parnaso Di rassegnarsi alla nostra presenza allicata Il Presidente, il Direttore, gli operatori, gli ospiti e i familiari della Parnaso Colgono l'occasione per esprimere la loro solidarietà al Sindaco Angelo Cambiano Per il vile atto intimidatorio subito E ne ammirano il coraggio nel continuare a governare la città Siamo convinti che per qualunque cosa si voglia fare allicata Ci vuole coraggio e determinazione E noi della Parnaso ne abbiamo tanto Visto che operiamo in un territorio Lasciatecelo dire, ostile Queste le parole del Presidente, Dottor Pierpaolo Frassine E con questo è tutto Il telegiornale termina qui Grazie per la cortese attenzione L'appuntamento alle prossime edizioni Arrivederci L'appuntamento alle prossime edizioni Grazie per la cortese attenzione